ciao sono matteo pino titolare della braceria dei goti venite con me oggi siamo qui per farvi vedere come avviene la trasformazione da una macelleria tradizionale in una braceria siamo una generazione di macellai da decenni operiamo nel settore della ristorazione la nostra storia inizia con la vendita diretta tramite la macelleria di famiglia ma vede la sua rivoluzione ai nostri giorni con l'introduzione della possibilità per i nostri clienti di consumare i nostri prodotti direttamente in braceria la nostra specialità è la frollatura delle carni rosse realizzata con l'ausilio delle tecniche tecnologie più all'avanguardia effettuiamo una frollatura in dry age cioè frollatura a secco nella frollatura bisogna rispettare diversi parametri come sono umidità temperatura e ph questo processo fa assumere alla carne un colore esterno molto scuro e ne riduce il peso rispetto al suo stato iniziale per via della disidratazione grazie ai sistemi di frollatura abbiamo dato la possibilità ai nostri clienti di conoscere tagli e bistecche provenienti da tutto il mondo per i nostri sistemi di frollatura abbiamo stretto una partnership importante con mancini market che ci garantisce professionalità qualità dei prodotti supporto tecnico costante e soprattutto il miglior risultato possibile nella frollatura delle nostre carni siamo anche e commerce sul nostro sito si trovano i migliori tagli e preparati a base di carne come il negozio con la possibilità di spedizione in ambiente termico controllato braceria decodi è il luogo ideale per gli amanti dei prodotti genuini di quelli pregiati delle grandi grigliate delle bistecche succose unendo tradizione e innovazione